partiti moto perpetuo all'interno in leggero vantaggio nei confronti di run of excuses all'argo di tutti e veloce anche racconterò di te che lascia in coda Katherine Piper moto perpetuo deciso leader lungo lo seccato al suo esterno si profila racconterò di te in terza posizione run of excuses davanti a Katherine Piper cavalli ora a 400 dal palo con racconterò di te che si profila l'attacco di moto perpetuo i due sono in vantaggio nei confronti di run of excuses è passato deciso ora racconterò di te nei confronti di run of excuses e Katherine Piper nel tratto finale racconterò di te sta allungando e nel finale racconterò di te prende chiaramente la meglio e si impone davanti a run of excuses Katherine Piper e moto perpetuo andiamo a rivedere la bella affermazione di racconterò di te che è emerso a 200 dal palo per concludere numero uno dello schieramento carletto fiocchi in sella al posto d'onore chiude il numero cinque di run out excuses quindi uno cinque quattro il probabile ufficioso arrivo di questa sesta ed ultima corsa da Napoli è tutto per oggi a risentirci martedì prossimo con il prossimo convegno di galop grazie a tutti Grazie a tutti.